Caro futuro Ted, sono io, il Ted del 93. Se stai leggendo questo, vuol dire che abbiamo una serie TV in una delle più grandi piattaforme streaming. Beh, abbiamo una nuova serie. Com'è il futuro? Scommetto che la NASA manda la gente sulla luna tutto il tempo. Gente sulla luna, negativo. Porno illimitato al giorno d'oggi, positivo. Comunque, non vedo l'ora di vedere cosa inserbe il futuro. Le macchine volanti e programmi televisivi che non ripropongono solo vecchie cose. Porco cazzo, avevo troppa speranza. Caro futuro Ted, sono io, il Ted del 93. Se stai leggendo questa lettera, vuol dire che... Porco diaz, vuol dire che il porco diaz... Questa me la tengo.